Carlo Leonardi, presidente del gruppo Donatori di Sangue Frates Anghiari, perché si avvicina alla quarta edizione del Trofeo Frates Città di Anghiari. Il giorno è il 3 luglio, un grande appuntamento alle tue spalle, il gruppo di lavoro che sta già preparando tutto. Sì, anche quest'anno siamo già a buon punto con l'organizzazione. L'appuntamento ormai è fisso per il primo fine settimana di luglio. Riproponiamo la nostra gara podistica, il quarto trofeo Frates, come dicevi tu, all'interno della festa estiva dei Donatori di Sangue, arrivati per l'occasione alla diciottesima edizione. Sarà un grande appuntamento dopo la crescita dello scorso anno, ci aspettiamo numeri ancora più importanti? Beh, diciamo che noi abbiamo tante aspettative, ci abbiamo puntato molto. Sicuramente la novità più importante è che siamo entrati a far parte del circuito dell'Unione Polisportiva Policiano. Quindi ancora una volta una crescita, ancora una volta ci aspettiamo tanti atleti come sono stati negli anni precedenti. Quindi una gradevole conferma sarà anche quest'anno. Confermato comunque il chip elettronico e tutte le novità che furono nello scorso anno. Senz'altro, ormai abbiamo consolidato anche la collaborazione con la Dream Runners di Perugia. Grande risultato apprezzato dagli atleti, quindi anche quest'anno la riproponiamo con grande piacere. Allora, il tuo invito a tutti gli appassionati per essere presenti ad Anghiari. Venite, venite. I donatori Fratres vi aspettano, ci teniamo a fare bene, lo possiamo fare solo grazie a voi. Partecipate al trofeo. Giorgio Nicchi per parlare dei percorsi, perché il percorso del trofeo Fratres città di Anghiari è ormai consolidato, anche se presenta un'importante novità nel finale. Sì, quest'anno c'è una novità, soprattutto nel tratto finale, che non ci sarà più la faticosa salita per arrivare ai piedi delle mura, ma il percorso subirà una variante che riprende un po' quella che era il percorso originario degli anni indietro, passando per la via dell'Intoppo, sempre che poi si mette nelle mura per poi arrivare fino alla piazza. Invariato comunque il chilometraggio? Il chilometraggio rimane lo stesso di 11 chilometri, quindi sempre un percorso comunque difficile, faticoso, anche se l'ultima salita è un pochino più leggera. Possiamo comunque dire che è difficile, ma è affascinante, su questi consensi sono sempre unanimi? Sì, il percorso rimane sempre quello affascinante, lo specchio è quello del bel paese di Anghiari, rimane sempre quello. Tanti i premi previsti, importante come sempre il Memorial Adriano Giorni, a chi verrà consegnato quest'anno? Quest'anno verrà consegnato al primo arrivato più giovane, indistintamente se maschio o femmina, e un'altra novità riguarda il settore femminile, che c'è una categoria in più per le donne, quindi ancora più premi per i partecipanti. E per quello che riguarda le categorie giovanili, saranno come sempre al Via? Ci saranno come sempre le categorie giovanili, perché comunque oltre che essere una gara pudistica, vuole essere anche un momento di allegria, di gioia, e quindi quale migliore pubblico, se non quello dei bambini? Fabiano Avellati, perché il Trofeo Fraterresti Città di Anghiari è il momento sportivo di una dei giorni sicuramente affascinante, che ha al centro il gruppo donatore di sangue, quindi la donazione di sangue. Quest'anno siamo nella diciottesima festa estiva, in più abbiamo il quarantesimo anno di fondazione, perciò facciamo una due giorni, ci siamo preposti di fare una due giorni. Partiamo dal sabato, la sera, e al campo della fiera abbiamo il nostro stand gastronomico, con musica dal vivo, quindi il sabato si svolge in questa maniera. Poi la domenica partiamo la mattina con la gara pudistica, il prevenzione vita, che oramai è una cosa molto consolidata negli anni, e in più abbiamo nel pomeriggio, dalle diciotto, facciamo alla Pieve di Miciano i festeggiamenti per il quarantesimo anno di fondazione, quindi solenne messa con il vescovo emerito di Fiesole, Luciano Giovannetti, premiazioni dei donatori che hanno raggiunto determinati obiettivi, e rinfresco per tutti nel magnifico scenario che va verso la Valtiberina. Ricordiamo anche l'importanza, il vostro slogan, perché qui si unisce lo sport, ma si unisce anche con qualcosa di molto utile, che è la donazione del sangue. Il nostro motto è una stella del tuo sangue per un palpito del mio cuore. Quindi l'invito a partecipare per queste due giorni è doppio, insomma, non solo per gli appassionati di sport, ma anche per chi vuole fare un'opera buona e qualcosa di utile. Sì, e anche per chi vuole fare proprio un'opera buona, perché la donazione del sangue sappiamo che non si fabbrica e si dona e basta. E allora sabato 2 luglio il grande appuntamento con la diciottesima festa estiva del donatore per un fine settimana dedicato all'importante tema della donazione del sangue, che vivrà domenica 3 luglio a partire dalle ore 9, con partenza quindi anticipata rispetto al 2015, il suo momento di grande sport con la quarta edizione del trofeo Fratres Città di Anghiari, gara riservata a giovani e adulti, che è ormai diventata una competizione imperdibile per i podisti del territorio e non solo. Tutti gli appassionati sono quindi invitati a partecipare e ad iscriversi online nel sito www.dreamrunners.it.